È prevista per fine settembre, martedì 26, alla mezzia terme, la presentazione del progetto nazionale Segui la terapia da parte di Federpharma Catanzaro. L'obiettivo è quello di assicurare al meglio l'aderenza del paziente al trattamento terapeutico prescritto con la fondamentale collaborazione del medico di medicina generale. Dottor De Filippo, perché il sistema sanitario italiano ha bisogno della massima aderenza del malato alle terapie? Sì, il 26 settembre presenteremo insieme al segretario provinciale della FIMIG, dottor Gennaro De Nardo e al dottor Franco Esposito, segretario regionale della SMI, il progetto Segui la terapia. Tale progetto si riferisce all'aderenza alla terapia presa in carico del paziente a tutti gli effetti. È il primo step di tale progetto con un supporto fondamentale dei colleghi medici e verrà presentato a tutti i farmacisti aderenti a Federpharma Catanzaro, quindi a tutte 137 farmacie della provincia di Catanzaro. Tale progetto è stato già presentato a Federpharma Cosenza e all'ordine provinciale dei farmacisti di Cosenza e mi auguro che nei prossimi mesi verrà presentato nelle altre province. Ecco, ma in cosa consiste nel dettaglio? Il progetto consiste nel nostro cliente utente paziente verrà reclutato in farmacia e col piano terapeutico dove c'è tutta la posologia firmata e timbrata dal collega medico verrà inserito in un portale dove al nostro cliente gli arriverà o un sms, un alert tramite app oppure normalmente un messaggio vocale tramite telefono fisso. I principali assuntori dei farmaci si sa sono gli anziani. Come pensa venga superata la poca dimestichezza per la tecnologia informatica? La poca dimestichezza per quanto riguarda l'informatica verrà superata con un normale messaggio vocale col telefono fisso. Tutto questo comporterà un minore rischio di ospedalizzazione da parte dei nostri clienti e un risparmio non indifferente per quanto riguarda le risorse umane che verranno destinate sicuramente ad altri settori. Il tutto naturalmente è beneficio supremo della salute del paziente? Sicuramente beneficio supremo della salute del paziente e beneficio economico da parte del Servizio Sanitario Regionale. Tale progetto che l'aderenza alla terapia quindi presso in carico del paziente è stato già presentato da Federfarma Calabria insieme al dottore Misasi in una bozza di protocollo al commissario Ingegnere Scura. Un ultimo passaggio a proposito della sostenibilità di questo progetto che ha ottenuto l'appoggio di un importante marchio farmaceutico. Oltre al beneficio economico in dubbio, cosa significa il sostegno di una casa singola a vantaggio dell'intero sistema? Sicuramente è una cosa molto importante, tale progetto è stato fatto, è stato patrocinato da Federfarma Nazionale ma ai tempi del Presidente RAC e del dottore Misasi, inoltre ha un supporto incondizionato di una grossa società che è Mylan quindi per quanto riguarda, da sottolineare che tale progetto è a costo zero. Seguire la terapia non è facile ma da oggi c'è un aiuto in più. Grazie a tutti.